L'Ancadic e il Comitato Torrente Olivetto di Lazzaro fanno seguito alla precedente richiesta di intervento datata il 2017 per sollecitare l'amministrazione comunale di Motta San Giovanni a mettere in sicurezza un chiusino situato sul Corso Italia, lato mare, un punto di riferimento davanti al Civico 60 che minaccia pericolo per la circolazione veicolare e ciclopedonale. E' stato segnalato altresì in quel tratto di fronte al Civico 68 il cedimento della strada lato mare oveve visibilmente un affossamento nel quale tra l'altro ristagna l'acqua piovana e i veicoli in transito schizzano l'acqua sulla decente aria privata, sulle persone ivi presenti e sulla parete del fabbricato sito al precitato Civico 60. Si sottolinea il degrado del pericoloso cordolo di cemento lato mare della strada. Giova ripetere che tale stato di fatto determina una costante pericolo per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica e privata poiché il telaio del chiusino si potrebbe completamente sprofondare col transito dei veicoli, soprattutto quelli pesanti il cui carico potrebbe ribaltarsi sull'aria privata. Sempre lato mare della strada ove si registra l'affossamento insiste un battuto longitudinale di cemento che reca pericola la circolazione stradale. Tanto si risegnala per gli urgenti interventi a tutela della circolazione stradale e alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.